Nel corso della sua permanenza nella casa del GF VIP, Cristiano Malgioglio ha molto legato con Stefania Orlando e con Tommaso Zorzi mentre con Giulia Salemi ha avuto degli attriti. Alla prima ha dedicato parole importanti nel corso della recente intervista tra le pagine del settimanale Chi nella quale ha spiazzato tutti rispetto al nome del possibile vincitore del reality. Con Stefania Orlando il paroliere Cristiano Malgioglio ha condiviso momenti molto importanti e di grande confidenza. Di lei non poteva che parlarne con affetto estremo. Donna stupenda e grande giocatrice. Sta facendo un ottimo percorso. Tra noi bastava uno sguardo per capirci. Anche di Tommaso Zorzi ha dei bellissimi ricordi e parlando del giovane influencer Malgioglio ha aggiunto. Zorzi è stata una rivelazione, nonché un punto di riferimento per me all'interno del reality. Con lui potevo parlare di tutto. Era come se ci conoscessimo da sempre. Tuttavia ha la domanda su chi vincerà il reality, Malgioglio si è limitato a dire che vinca il migliore. Non ha poi risparmiato anche Giulia Salemi della quale ha detto. Nessuna guerra con Giulia. Lei vuole fare il suo percorso e io le auguro ogni bene, ma come le ha detto anche il papà quando è venuto a farle una sorpresa, deve crescere. Non è ancora Chiara Ferragni. Prima avevo contro le bimbe di Giulia dell'Hellis, ora quelle della Salemi. Agli Ather ho sempre preferito i lave.